Monte Chiarugolo, il nostro paese, persone e immagini. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La pizzeria Al Toschi, parco Verdi, campo sportivo Lele Riva, scuola Giovannino Guareschi, cartolerie di Prandi, attraverso il Tolo 33 Ter, il castello di Monte Chiarugolo, la fermata dell'Aufus vicino alla caserna dei Carabinieri, l'odoteca di Monticelli Terme.